Ma che dire, è stata un'esperienza diversa, nuova, perché noi abituati a produrre quotidianamente torte e pane con le classiche materie prime, è stato anche per noi interessante e stimolante testare questa nuova linea di prodotti, per la maggior parte prodotti preparati che vanno incontro all'aiuto dell'utente finale piuttosto che del professionista, è stato interessante, è stato motivante e devo dire che sono prodotti veramente facili, che si prestano ad un uso quotidiano, è estremamente rapido e molto semplice. Visto dal punto di vista del mio reparto, della forneria, è chiaro che siamo contro l'utilizzo di questi prodotti perché chiaramente potrebbero influire sulle nostre vendite, ma siamo di spirito cooperativo e quindi ci siamo prestati molto volentieri all'utilizzo e alla realizzazione di questi dolci che comunque vanno incontro a esigenze di quella fascia di clientela che non necessariamente si prende qualcosa già fatto, ma se lo vuol fare con le proprie mani. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti i prodotti che ci hanno aiutato a realizzare tutti questi prodotti. Devo dire che in particolar modo i prodotti come il pane e la schiacciata sono venuti veramente molto buoni. Avrete avuto modo di apprezzarli durante la pausa pranzo. Ci tengo a precisare che la cottura è avvenuta in un forno però da professionisti, quindi in un forno vero da pane che chiaramente ha contribuito al raggiungimento di questa bontà. Li abbiamo assaggiati tutti, sono i prodotti degustati nella pausa caffè e anche poi nel pranzo, nella pausa pranzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.